Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Momenti di paura nell'isola di Schiatos, in Grecia, dove un aereo passeggeri Witzer è passato a pochi metri di quota sopra una spiaggia, sfiorando quasi la testa dei turisti, per poi atterrare nella vicina pista dell'aeroporto. L'isola greca di Schiatos è conosciuta proprio per il suo piccolo aeroporto a pochi metri dal mare, che costringe i piloti ad atterraggi spettacolari con tanto di volo a bassissima quota sopra la spiaggia. Si vedono addirittura le persone in spiaggia spostarsi ed abbassarsi per schivarlo. Come mai l'aereo ha sfiorato le teste dei turisti. Le condizioni meteo avverse hanno costretto il pilota ad abbassarsi per prendere la pista di atterraggio nel tratto iniziale, in modo da avere più spazio di frenata.